Il signor se ci dà la testa C'è a morte, c'è a pronti, alla morte, c'è a pronti Alla morte l'Italia chiamo Sì! John Bourne ragazzi, John Bourne e benvenuti in questo nuovo video Benvenuti nella live reaction di Italia Svizzera Se oggi vinciamo con tutta probabilità passeremo il turno anche senza probabilità Perché andiamo a 6, il Galles, vabbè i carcoli fanno più avanti Ragazzi, partiamo, lasciate almeno 5.000 mi piace qui sotto Se volete anche la live reaction di Italia Galles Iscrivetevi al canale e noi partiamo Giorgiorno! Ma che buono! Forza azzurri! Mi metto il cappello! Forza azzurri! Allora fammi vedere chi gioca qua Insegno Immobile Berardi Locatelli, Giorginio, Barella Chiellini Bonucci, Di Lorenzo, speso quelli pari pari dell'altra volta Ma non c'è Florenzi, c'è Di Lorenzi perché è spaccato Florenzi Partiti! Chi c'è? Che paura! Mena! Mena! Quanto odio quando ci mettono due ore, carotoline di passaggio Una destra, una sinistra Oddio la passi! Che cazzo la tieni? Voleva tranquillamente passarla secondo me Che nervi! Che nervi! Il cappello me lo metto in culo per protesta Non so se ti conviene eh Mi sa di no No, pronostico? 3 a 0 per noi Sbò! Ok, io penso 2 a 0 invece Ah, siamo ottimisti Sì, siamo ottimisti Per il momento Poi Ottimismo Vabbè, pensi di essere simpatici Sono figo con questo cappello Il cappello per berardi Sì, eccolo! Tira berardi! Allora, niente Cazzo niente Raga, lasciate qua sotto Se volete Nella prossima live reaction Anche gli occhiali Dell'Italia Quindi verdi, bianchi e rossi Mi raccomando Mi sono pure ricordata Lasciate 7000 mi piace Se no Se no niente Perché un cappellino dell'Italia Dovrebbe essere i medi in Cina Comunque giochiamo bene Sì, sì Ambocco Girovalla Sulla posizione Anche la difesa mi piace attualmente Per poi Ovviamente non ci sono state tantissime azioni Perché siamo al nono minuto Però Però la difesa mi piace Riusciamo a impostare bene Stiamo provando a entrare in aree Dobbiamo anche Rapportarci all'avversario Però per il momento mi piace Giù il cappello per te Grazie Babu È Mbappé fake Sì, è loro un bappé Occhio Mettila dentro, sì Sì Alta No Bravi però Bravi però Sì, questa poi è stata anche un'azione Molto improvvisa Quindi abbiamo un po' Fatti trovare la sprovvista Peccato Peccato Che giocatore comunque che è barella Mamma mia quanto è forte Oh, rigore No Speravo Sì, però non mi puoi far prendersi spaventi Eh, speravo Tira Dai, dai, dai Certo, loro sono tutti chiusi però Oh, mamma mia veramente Ma che sa Ma è il Brasile del 98 Cioè, guarda Che esagerazione Che sa da affrontare Vai al Monaco Eccolo Sì, no No, no Sei schifo di Lanzigna Mamma mia, ma che t'ha insegnato Lanzigna Mi sta piacendo molto Spinazzola È sempre Corre in sacco Mamma mia che colpo di tacco Vai mobile Palla dentro Altissima però Dai, dai, dai Vai Leo, vai Leo Vai Leo, me la Leo Ok, angolo Francesco Che bello Ottimo Mamma mia Vai, tira Sì 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 Chiellini 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 Cazzo Chiellini 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 Vi andiamo Cazzo Dai Che c'è Che succede Che fai Dov'è buco Meno male Meno male Meno male Meno male Rivediamo l'azione Amici Ma la palla di Manellina Comunque bravo Chiellini Che ci sia venta Con la cattiveria Di chi vuole segnare Ragione Alla faccia Alla faccia Vostra Maledetta Schifosi Di quelli che dicono Che è bevecchio È vecchio Tuzio È vecchio Maledetti Maledetti Guarda lì Con cattiveria Si è ingroppato Una kanji Controllo gol Al bar Come controllo gol No Dai che io Insultano tutti Boh Uno di loro è morto Annullato Ma per cosa Dai su Allora fatecelo Rivedere Fammi capire una cosa Tu fammi capire una cosa L'altra volta Coglioni sembrava Gesù Cristo Incrociato così Ma non era rigore Perché la regola Dei falli di mano È cambiata Adesso Chiellini Stanno così E quello Non lo so Non me ne fanno altri tre Vaffanculo Quest'anno Ma che è Dai che è Ma che è No Si ha fatto male Chiellini Pure Entra Cervi Vai Sì 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 E annullace pure questo E annullace pure questo Cazzo Sì Ma che hai Allocatelli E vai E annullace pure questo Annullace Annullace pure questo Guarda Guarda Tutti sono entrati in campo Tutti Cazzo E vai Cazzo Annullame questo Annullame questo E vai Quanto cazzo siamo forti Sto provati da Montes Vai Devo tagliare solo la parte in cui ci riuscivo Eh certo Cavolo Mamma mia Berardi Cioè che bella azione Ma poi ti rendi conto Berardi al centro per Locatelli Sassuolo Sì è vero Che bello Sì è vero Che bello Sì è vero Che bello Cazzo Che bello Che bello Cazzo Eeeh Appoggiando le palle in testa io mi dissocio non dico coparolacce coparolacce io mi associo stiamo giocando molto bene Palle in testa metti un po di musica leggera perché ho voglia di niente Anzi leggerissima Oh attenzione al contropiede eh niente niente adesso devo via al culo all'ultimo eh ci posso credere eh via 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 Bravo chi è come un porco chi è che ha fatto la finta che bravo fine primo tempo bene così bene così che si è iniziato il secondo tempo Comunque noi sempre così i primi 3-4 minuti dell'inizio del primo e del secondo tempo cioè due palle facciamo una fatica poi dopo ne ho otto in scioltezza Mamma mia Petkovic mi stava sul cazzo già il tempo continua a stammi sul cazzo Mamma mia oh vai vai eccolo si tira tira ha tirato ha tirato ed è Locatelli ed è sempre Locatelli ed è sempre Locatelli Ha tirato Locatelli ha tirato Locatelli ha tirato Petkovic va a piander il culo e vai tutti ballano Mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ha tirato Locatelli Petkovic va a piander il culo e vai tutti ballano E vai tutti ballano Mamma mia mamma mia come godo Occhio No 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 bravo donna rumma Bravo donna rumma bravo donna rumma Bravo donna rumma Sopriamente bravo Bravo donna rumma Mamma mia che parata Dai svegliamoci adesso svegliamoci adesso Non riapriamo la Bravi si sono immolati E ora è fuori gioco E ora è fuori gioco Oh ma i miei uomini potevano morire lì Dai visti? Come si erano immolati Un'ora fa era il fuori gioco Ma stiamo scherziamo Guarda Guarda tra di Lorenzo e quell'altro lì Chi cazzo è? Io ho visto dice Dolores Sembra la Fariba Terane delle isole famose Io ho visto l'universo sa Io ho visto video C'è video C'è video C'è video A guardarlo in faccia A guardarlo in faccia Il gangsta Il gangsta Eccolo Si si glielo come adesso Glielo come adesso Ciro no No immobile Non è possibile Hai rotto i coglioni Ma vuoi tirare dritto Ma ci vuole così tanto Ma almeno prendi la porta Almeno la porta Mamma mia quanti cazzo di cosa si mangia immobile Una ciavattata gli ha tirato Che cazzo Io a carcetto tiro meglio Che palle Che palle Che palle Che poi vabbè se è vincito a 0 Lo fai con la Svizzera Però metti 0 a 0 con la braccia Mi gira il cazzo Era fallo arbero Dai 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 No si è fatto male barella Che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Perché si è fatto male barella? Mamma mia che coca ha fatto immobile Mamma mia che coca ha fatto immobile Ma stai scherzando Bellissimo L'hanno fatta L'hanno fatta L'hanno fatta L'hanno fatta Bravo Bravo Ciro Bravo Ciro Certo Imperdonabile Per tutto quello che ha fatto Però Però almeno Almeno questo Comunque sto rosicando Perché stai rosicando? Perché tu non ci sei più Perché stai rosicando? Sto rosicando perché Io avevo detto 2 a 0 E tu hai detto 3 Eh vabbè No vediamo come finisce Ci mancano ancora qualche minuto E' finita cazzo Siamo agli ottavi di finale Siamo agli ottavi di finale Grandi Italia Grandi Azzurri 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Dai 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 Bella roba Bella roba Bella roba Mamma mia che bello Mamma mia che bello Ragazzi a questo punto io vi mando Vi rimando al post partita Corro a registrarlo Iscrivetevi al canale 5000 mi piace per un altro Live reaction Per un altro live reaction post Italia Galles 7000 Se la volete con gli occhialetti Bianco Verdi Rossi Blu Gialli Ciao raga Forza Azzurri Dai